Si intitola Quadrare i conti ed è il nuovissimo libro della bellissima e bravissima Monica Setta, personaggio di spicco della televisione italiana, dimostra di fare le cose in grande. Infatti pensate che Monica attraverso questo libro, attraverso quest'opera, insegna a tutti gli effetti quelli che sono, a mio modesto parere, i segreti della economia. Acquistare una casa, affittarla, affittare finanza, mutui prestiti economici, tutte questioni che vengono ad essere disvelate in questa straordinaria opera di fascino e di bellezza angelicata. Quadrare i conti, già il titolo è tutto un programma, già il titolo di quest'opera ci fa capire che forse l'impegno, l'impulso è proprio quello di riuscire per quello che si può a far quadrare i conti e ci si riesce, punto interrogativo, non è sempre semplice, non è sempre facile. Monica, secondo me, attraverso quest'opera ci vuole lasciare con uno spunto di riflessioni in più da attuare. Il video termina qua, complimenti a Monica Setta, iscrivetevi al canale Narratore Italiano, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate, un salutone caro e al prossimo video.